Vai! Oggi contestazione di questa giornata di Recruiting Day all'Era, azienda privata che specula su all'interno dei profitti di quel 20% che il referendum come mobilitazione dal falso ha deciso di abolire. A Colonna non è cambiato nulla, quel 20% va ancora oggi nelle tasche di ERA, come profitto immediatamente regalato a questa azienda. Santa insolvenza, la santa dei precari, la santa di chi ha deciso che non vuole pagare un debito che non ha contratto, la santa di chi ha deciso che domani saremo in una processione per riprenderci tutti e tutti assieme un community center dove iniziare e continuare a costruire una lotta, una battaglia contro la crisi. All'Era diciamo che il 20% delle bollette ce lo deve ridare immediatamente, diciamo che quel referendum frutto di una mobilitazione dal basso ha deciso che le aziende private non devono più avere quel 20% di profitto.